Sto andando a Garniano, sulla sponda bresciana del lago di Garda, un paese tranquillo con un fascino nascosto. Venite a scoprirlo con me! Garniano è un piccolo borgo della sponda occidentale del lago di Garda, poco conosciuto rispetto ad altre località turistiche, ma non per questo meno affascinante. Le strade e gli edifici di Garniano sono stati testimoni di recenti avvenimenti storici rilevanti. Questo, ad esempio, è Palazzo Feltrinelli, un elegante edificio di fine ottocento, divenuto quartier generale di Benito Mussolini durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana, e oggi centro convegni di livello internazionale e sede staccata dell'Università degli Studi di Milano. Mentre di fianco alla spiaggia della Fontanella sorge Villa Feltrinelli, residenza di Benito Mussolini dal 1943 al 1945, trasformata nel 1997 in hotel di lusso. Sono al posto di Milano, mi sono arrivato a Ponte Mussolini dal 1945, trasformata nel Porto di Garniano, il cuore della vita cittadina, è qui che si concentrano i locali, i ristoranti, le attività commerciali e fa un po' strano notare, e stride anche un po', come su alcune facciate di questi palazzi siano state murate delle palle di cannone, a ricordare agli abitanti di Garniano, ma anche ai visitatori, ai turisti, il bombardamento navale subito dalla città nel 1866. Garniano è inoltre uno dei pochissimi luoghi dove ancora oggi sopravvive un'antica tradizione, che ha reso celebre il lago di Garda nel mondo grazie a uno dei suoi prodotti più rinomati, come testimoniano gli agrumi scolpiti sulle colonne del chiostro della chiesa di San Francesco. Ecco, vedete, sono questi gli agrumi scolpiti nei capitelli. Secondo la tradizione furono proprio i frati francescani ad iniziare la coltivazione degli agrumi sul lago di Garda. La limonaia La Malora risale al XVI secolo. Grazie all'impegno e alla passione del proprietario Giuseppe Gandossi e di suo figlio Fabio, è a tutt'oggi perfettamente conservata, visitabile e produttiva, a differenza della maggior parte delle limonaie del lago di Garda. Il nome deriva dal rio Malora, oggi rio Molini, un ruscello che scorre a fianco della struttura e che un tempo alimentava le ruote dei mulini. Non è stato semplice far rinascere una struttura unica nel suo genere. Il signor Giuseppe ha voluto seguire in tutto la tradizione, dalla ricostruzione della muratura e dei pilastri in pietra, alla scelta del legno per i pali, le assi, il ripristino dei canali per l'irrigazione e specialmente le tecniche di coltivazione dei limoni, rigorosamente naturali, come si usava a fare centinaia di anni fa, che oggi permettono a piante di oltre 8 metri di altezza di produrre circa 20.000 limoni l'anno. Da cinque secoli la limonaia continua a produrre limoni in piena efficienza e in perfetto stato di conservazione. Oggi è possibile visitarla autonomamente seguendo un percorso che vi porterà alla scoperta della tecnica della copertura invernale mediante vetrate e assi di legno, la ruota del mulino, il casello con gli antichi attrezzi da lavoro e l'ingegnoso sistema di irrigazione costituito da canaletti di pietra calcarea che sfruttano solamente la forza di gravità per deviare l'acqua che scende dall'alto e dirigerla verso le piante mediante l'utilizzo di più piccoli canaletti mobili in legno opportunamente posizionati. Sto andando a Bogliaco, una piccola frazione del comune di Garniano, perché ho scoperto che lì c'è davvero un posto magnifico, davvero molto bello. È una villa lombarda del Settecento, chiusa al pubblico perché è privata, però ho provato a chiamare e molto gentilmente i proprietari e la famiglia Bettoni ha detto che mi aprirà le porte per farmela vedere. Voglio portare anche a voi perché davvero io, in una piccola frazione di un comune tranquillo del lago di Garda, non avrei mai pensato ci potesse essere un posto così bello. Venite con me. Quella dei Bettoni è una famiglia che ha tessuto rapporti con l'impero austro-ungarico nel Settecento, in particolare Gian Antonio Bettoni, al quale fu concesso da Maria Teresa d'Austria il titolo nobiliare di Conte, per il suo servizio e per i suoi meriti durante la Guerra dei Sette Anni. Villa Bettoni è una splendida villa lombarda del XVIII secolo, che nel corso degli anni è stata protagonista di importanti avvenimenti. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu occupata e per un periodo divenne la sede del Gran Consiglio del Fascismo. In quegli anni, 17 su 18 incontri furono tenuti qui, nella biblioteca di Villa Bettoni. Decenni dopo fu utilizzata anche come set per riprese cinematografiche. Nel letto che vedete è stata girata una scena del film Alonso Enfant, dei fratelli Taviani, con Marcello Mastroianni. La villa fu costruita a partire dal 1752, da 16 fratelli. Uno di questi era un agronomo che ha fondato la Facoltà di Agronomia di Salò e aveva progettato per la villa un giardino all'italiana che potesse essere rappresentativo di molte specie vegetali. Il progetto fu steso insieme a Delai Bettoni, amico di Casanova, che aveva portato a corte un'idea architettonica diversa, con l'intento di rendere il giardino un'opera monumentale. Sono alla spiaggia dei Limoni, a Garniano, il lido principale della città. È una spiaggia molto bella, si possono affittare sdrai, ombrelloni, lettini, pedalò. Ed è anche una spiaggia molto frequentata da giovani, perché i ragazzi vengono qui la sera al beach bar per fare l'aperitivo e poi alla fine si ritrovano a fare le ore piccole. Se invece volete stare più tranquilli, vi consiglio di andare in fondo al paese di Garniano, alla spiaggia La Fontanella, frequentata soprattutto da famiglie perché l'acqua all'inizio non è molto alta, quindi i bambini possono giocare in tranquillità. Si può anche affittare canoe, lettini, ombrelloni anche lì, quindi ogni tipo di servizio e ci si può rilassare all'ombra degli ulivi. Io adesso me ne sto un po' qua a rilassarmi, cerco di togliermi questo colore bozzarelloso perché sono veramente bianco e poi voglio andare a vedere che arrivano le bisse. La regata delle bisse è un evento molto seguito dagli abitanti dei 14 comuni partecipanti, del lago di Garda e del lago di Seo. È una tradizionale gara che vede la partecipazione di imbarcazioni storiche, risalenti all'epoca della Repubblica Veneta, che prevede la tipica remata dei veneziani e dei pescatori del lago di Garda, cioè in piedi e in avanti. La regata si tiene ogni anno, tra giugno e agosto. L'imbarcazione vincitrice ottiene come trofeo la bandiera del lago e ai migliori rematori viene riservato l'onore di sfilare a Venezia, sul canale grande, in occasione della regata storica. Adesso io vado, ho visto che c'è qualche stand, voglio cercarmi qualcosa da mangiare, da bere. Voi iscrivetevi al canale per vedere altri video, come sempre i vostri dubbi, le vostre domande nei commenti sotto. Italian Travel, alla prossima! Grazie! 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 Grazie a tutti.